Secondo Samuele, primo capitolo Ora avvenne che, dopo la morte di Saul, Davide, tornando dalla sconfitta degli ammalichiti, si fermò due giorni a Ziklag. Quando ecco il terzo giorno arrivare dal campo di presso a Saul, un uomo con le vesti stracciate e col capo cosperso di polvere, il quale, giunto in presenza di Davide, si gettò in terra e gli si prostrò d'innanzi. Davide gli chiese, «Donde vieni?» L'altro gli rispose, «Sono fuggito dal campo di Israele». Davide gli disse, «Che è successo? Dimmelo, ti prego». Quelli rispose, «Il popolo è fuggito dal campo di battaglia, e molti uomini sono caduti e morti, e anche Saul e Jonathan, suo figliuolo, sono morti». Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose, «Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figliuolo, sono morti?» Il giovane che gli raccontava queste cose disse, «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa, e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia, e i carri e i cavalieri lo stringevano da presso. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi, «Eccomi», ed egli mi chiese, «Chi sei tu?» E io gli risposi, «Sono una male chita». Egli mi disse, «Appressati e uccidimi, perché mi ha preso la vertigine, ma sono sempre vivo». Io dunque mi appressai e l'ho uccisi, perché sapevo che, una volta caduto, non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che gli aveva in capo, e il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui al mio Signore. Allora Davide prese le sue vesti, e le stracciò, e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui, e fecero cordoglio, e piansero, e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan, suo figliuolo, e del popolo dell'Eterno e della casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato queste cose, «Donde sei tu?» Quegli rispose, «Sono figliuolo d'uno straniero, d'una male chita». E Davide gli disse, «Come mai non hai tu temuto di stendere la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse, «Avicinati e gettati sopra costui». Quegli lo colpì ed egli morì. E Davide gli disse, «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, poiché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto, «Io ho ucciso l'unto dell'Eterno». Allora Davide compose questa elegia sopra Saul e sul figlio di lui, Jonathan, e ordinò che fosse insegnata ai figliuoli di Giuda, e l'elegia dell'arco si trova scritta nel Libro del Giusto. «Il fiore dei tuoi gigli, o Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai son caduti quei prodi? Non ne recate la nuova Agat, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figlie dei Filistei ne gioirebbero, le figliuole degli incirconcisi ne farebbero festa. «Oh, monti di Gilboa, su voi non cada più né rugiada né pioggia, né più vi siano campi da offerte, poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi, lo scudo di Saul, che l'olio non ungerà più». L'arco di Jonathan non tornava mai dalla pugna senza aver sparso sangue di uccisi, senza aver trafitto grasso di prodi, e la spada di Saul non tornava indietro senza aver colpito Saul e Jonathan, tanto amati e cari, mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile più forti dei leoni. Figliuoli di Israele, piangete su Saul, che vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, che alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Come mai son caduti i prodi in mezzo alla pugna? Come mai venne ucciso Jonathan sulle tue alture? Io sono in angoscia a motivo di te, o fratel mio Jonathan. Tu m'eri sommamente caro, e l'amor tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne. Come mai son caduti i prodi? Come mai son state infrante le loro armi? Secondo Samuele, capitolo secondo. Dopo questo Davide consultò l'Eterno dicendo, debbo io salire in alcune delle città di Giuda? E l'Eterno gli disse, sali. E Davide chiese, dove salirò io? E l'Eterno rispose a Ebrom. Davide dunque vi salì con le sue due mogli, Ainoam la Israelita e Abigail la Carmelita, che era stata moglie di Nabal. Davide vimeno pure la gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nelle città di Ebrom. E gli uomini di Giuda vennero e unsero qui Davide come re della casa di Giuda. Ora fu riferito a Davide, che erano stati gli uomini di Iabes di Galahad a seppellire Saul, e allora Davide inviò dei messi agli uomini di Iabes di Galahad e fece loro dire, «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete mostrato questa benignità verso Saul, verso Signore, dandogli sepoltura. Ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà, e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così. Or dunque si rafforzino le vostre mani, e siate valenti, giacché Saul è morto, ma la casa di Giuda mi ha unto come re su di essa». Or Abner, figliolo di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Yesh-Bosheth, figliolo di Saul, e lo fece passare a Mahanaim e lo costituire di Galahad, degli assuriti di Israele, di Efraim, di Beniamino e di tutto Israele. Gesh-Bosheth, figliolo di Saul, aveva quarant'anni quando cominciò a regnare sopra Israele, e regnò due anni, ma la casa di Giuda seguì Davide. Il tempo che Davide regnò a Ebron sulla casa di Giuda fu di sette anni e sei mesi. Or Abner, figliolo di Ner, e la gente di Gesh-Bosheth, figliolo di Saul, uscirono da Mahanaim per marciare verso Gaboam. Joab, figliolo di Zeruia, e la gente di Davide si misero anch'essi in marcia e si incontrarono presso lo stagno di Gaboam, e si fermarono gli uni da un lato dello stagno e gli altri dall'altro lato. Allora Abner disse a Joab, «Si levino dei giovani e giochini di spada in nostra presenza!» E Joab rispose, «Si levino pure!» Quelli dunque si elevarono e si fecero avanti in numero uguale, dodici per Beniamino e per Giosh-Bosheth, figliolo di Saul, e dodici della gente di Davide. E ciascun d'essi preso l'avversario per la testa li piantò la spada nel fianco, cosicché cadero tutti insieme. Perciò quel luogo che preso a Gaboam fu chiamato Elkath-Atsurim. In quel giorno vi fu una battaglia a Sprassai, nella quale Abner con la gente di Israele fu sconfitto dalla gente di Davide. Veranquivi i tre figlioli di Zoria, Joab, Abishai e Asahel. E Asahel era il più veloce, come una gazzella della campagna. Asahel si mise ad inseguire Abner, e dandogli dietro non si voltava né a destra né a sinistra. Abner guardandosi alle spalle disse, «Sei tu Asahel?» E quelli rispose, «Sono io». E Abner gli disse, «Volgeti a destra e a sinistra, e afferra uno di quei giovani, e prenditi le sue spoglie». Ma Asahel non volece stare dall'inseguirlo. E Abner di bel nuovo gli disse, «Cessa dal darmi dietro. Perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come potrei io poi alzare la fronte d'innanzi al tuo fratello Joab?» Ma quelli si rifiutò di cambiare strada. Allora Abner, con l'estremità inferiore della lancia, lo colpì all'inguine, sì che la lancia lo passò da parte a parte. Asahel cade e morì in quello stesso luogo, e quanti passavano dal punto dove gli era caduto morto, si fermavano. Ma Joab e Abishai inseguirono Abner. Il sole tramontava quando giunsero al colle di Amma, chiedere in petto a Ghia sulla via del deserto di Gabaon. E i figliuoli di Beniamino si radunarono dietro ad Abner e formarono un corpo e si colocarono in vetta una collina. Allora Abner chiamò Joab e disse, «La spada divorerà ella in perpetuo? Non sai tu che alla fine ci sarà dell'amaro? Quando verrà dunque il momento che ordinerai al popolo di non dar più caccia ai suoi fratelli?» Joab rispose, «Com'è vero che Dio vive? Se tu non avessi parlato, il popolo non avrebbe cessato di inseguire i suoi fratelli prima di domani mattina». Allora Joab suonò la tromba e tutto il popolo si fermò, senza più inseguire Israele, e cessò di combattere. Abner e la sua gente camminarono tutta quella notte per la campagna, passarono il Giordano, attraversarono tutto Bitron e giunsero a Manaheim. Joab tornò anche egli dall'inseguire Abner e radunato tutto il popolo, risultò che della gente di Davide mancavano diciannove uomini di Asahel, ma la gente di Davide aveva ucciso trecentosessanta uomini dei beniaminiti e della gente di Abner. Poi portarono via Asahel e lo seppellirono nel sepolcro di suo padre a Bethlehem. Poi Joab e la sua gente camminarono tutta la notte e il giorno spuntava quando giunsero a Ebrom. Secondo Samuele Capitolo Terzo La guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte mentre la casa di Saul si andava indebolendo. E nacquero a Davide dei figlioli a Ebrom. Il suo primo genito fu Amnon di Ahinoam la Israelita. Il secondo fu Chileab di Abigail la Carmelita che era stata moglie di Nabal. Il terzo fu Absalom figliolo di Maaca figliola di Telmai re di Geshur e il quarto fu Adonisia figliolo di Agit. Il quinto fu Shephatia figliolo di Abital e il sesto fu Iterream figliolo di Egla moglie di Davide. Questi nacquero a Davide in Ebrom. Durante la guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide Abner si tenne costante dalla parte della casa di Saul. Or Saul aveva avuta una concubina per nome Rizpa figliola di Ahia e Gesh-Boshet disse ad Abner perché sei andato dalla concubina di mio padre? Ed Abner si adirò fortemente per le parole di Gesh-Boshet e rispose sono io una testa di cane che tenga da Giuda? Oggi io do prova di benevolenza verso la casa di Saul tuo padre verso i suoi fratelli e i suoi amici non t'ho dato nelle mani di Davide e proprio oggi tu mi rimproveri il fallo commesso con questa donna? Iddio tratti Abner col massimo rigore se io non faccio per Davide tutto quello che l'Eterno gli ha promesso con giuramento trasferendo il regno della casa di Saul a quella di lui e stabilendo il trono di Davide sopra Israele e sopra Giuda da Dan fino a Beersheba e Gesh-Boshet non poteva replicare verbo ad Abner perché avea paura di lui e Abner speditosto dei messi a Davide per dirgli a chi appartiene il paese e fa alleanza con me e il mio braccio sarà al tuo servizio per volgere dalla tua parte tutto Israele Davide rispose sta bene io farò alleanza con te ma una sola cosa ti chiego che è che tu non ti presenti davanti a me senza menarmi Michal figliuola di Saul quando mi comparirai d'innanzi e Davide spedì dei messi a Gesh-Boshet figliuolo di Saul per dirgli rendemi Michal mia moglie la quale io mi fidanzai a prezzo di cento prepulsi dei filistei e Gesh-Boshet la mandò a prendere di presso al marito Paltiel figliuolo di Lais e il marito andò con lei e l'accompagnò piangendo e la seguì fino a Bahurim poi Abner gli disse va torna indietro ed egli se ne ritornò intanto Abner entrò in trattative con gli anziani di Israele dicendo già da lungo tempo state cercando da ver Davide per vostro re ora è tempo d'agire già che l'Eterno ha parlato di lui e ha detto per mezzo di Davide mio servo io salverò il mio popolo Israele dalle mani dei filistei e da quelle di tutti i suoi nemici Abner si abboccò pure con quelli di Beniamino quindi andò a trovare Davide e Hebron per metterlo a parte di tutto quello che Israele e tutta la casa di Beniamino avevano deciso Abner giunse a Hebron presso Davide accompagnato da venti uomini e Davide fece convito ad Abner e agli uomini che erano con lui poi Abner disse a Davide io mi leverò e andrò a radunare tutto Israele presso il re mio signore affinché essi facciano alleanza teco e tu regni su tutto quello che il cuore tuo desidera così Davide accomiatò Abner che se ne andò in pace or ecco che la gente di Davide e Joab tornavano da una scorreria portando sé con un gran bottino ma Abner non era più con Davide in Hebron poiché questi lo aveva licenziato ed egli se ne era andato in pace quando Joab e tutta la gente che era con lui furono arrivati qualcuno riferì la nuova a Joab dicendo Abner figliuolo di Neer è venuto dal re il quale lo ha licenziato ed egli se ne è andato in pace allora Joab si recò dal re e gli disse che hai tu fatto ecco Abner era venuto da te e perché l'hai tu licenziato sì che egli ha potuto andarsene liberamente tu sai chi sia Abner figliuolo di Neer egli è venuto per ingannarti per ispiare i tuoi movimenti e per sapere tutto quello che tu fai e Joab uscito che fu da Davide spedisse i messi dietro ad Abner i quali lo fecero ritornare dalla cisterna di Siva senza che Davide ne sapesse nulla e quando Abner fu tornato a Hebron Joab lo trasse in disparte nello spazio fra le due porte come volendogli parlare in segreto e qui ve lo colpì nel linguine sì che egli morì e ciò per vendicare il sangue di Asaer suo fratello Davide avendo poi udito il fatto disse io e il mio regno siano in perpetuo innocenti nel cospetto dell'eterno del sangue di Abner figliuolo di Ner ricada esso sul capo di Joab e tutta la casa di suo padre e non manchi mai alla casa di Joab chi patisca di gonorea o di piaga di lebra o debba porgiarsi al bastone o perisca di spada ossia senza pane così Joab ed Abishai suo fratello uccisero Abner perché questi aveva ucciso Asaer loro fratello a Gaboan in battaglia Davide disse a Joab e a tutto il popolo che era con lui stracciatevi le vesti cingetevi di sacco e fate cordoglio per la morte di Abner e il re Davide andò dietro alla bara Abner fu seppellito a Ebro e il re alzò la voce e pianse sulla tomba di Abner e pianse tutto il popolo e il re fece un canto funebro su Abner e disse doveva Abner morire come muore uno stolto le tue mani non erano legate nei tuoi piedi erano stretti nei ceppi sei caduto come si cade per mano di scelerati e tutto il popolo ricominciò a piangere Abner poi si accostò a Davide per fargli prendere qualche cibo mentre era ancora giorno ma Davide giurò dicendomi tratti Dio con tutto il suo rigore si assaggerò pane o alcuna cosa prima che tramonti il sole e tutto il popolo capì e approvò la cosa tutto quello che il re fece fu approvato da tutto il popolo così tutto il popolo e tutto Israele riconobbero in quel giorno che il re non entrava per nulla nell'uccisione di Abner figliuolo di Ner e il re disse ai suoi servi non sapete voi che un principe ed un grand'uomo è caduto oggi in Israele quanto a me benché un to re sono tuttora debole mentre questa gente e figliuoli di Zuria sono troppi forti per me renda l'eterno a chi fa il male secondo la malvagità di lui secondo Samuele capitolo quarto quando Gesh-Boshet figliuolo di Saul ebbe udito che Abner era morto a Ebron gli caddero le braccia e tutto Israele fu nello sgomento Gesh-Boshet figliuolo di Saul aveva due uomini che erano capitani di schiere il nome dell'uno era Baanna e il nome dell'altro Recap erano figliuoli di Rimon di Be'erot della tribù di Beniamino perché anche Be'erot è considerata come appartenente a Beniamino benché i Be'erotiti si siano rifugiati a Gitaim dove sono rimasti fino al di Doji or Jonathan figliuolo di Saul aveva un figlio storpiato de piedi il quale era in età di cinque anni quando arrivò da Israele la nuova della morte di Saul e di Jonathan la balia lo prese e fuggì e in questa sua fuga precipitosa avvenne che il bimbo fece una caduta e rimase Zoppo il suo nome era Mefiboshet i figliuoli di Rimon Be'erotita Reqab Banna andarono dunque e si recarono su più nel caldo del giorno in casa di Zesboshet il quale stava prendendo il suo riposo del meriggio penetrarono fino in mezzo alla casa come volendo prendere del grano lo colpirono nell'inguine e si dettero alla fuga entrarono dico in casa mentre Zesboshet giasceva sul letto nella sua camera e lo colpirono e lo uccisero e lo decapitarono e presa nella testa camminarono tutta la notte attraverso la pianura e portarono la testa di Zesboshet a Davide in Ebron e dissero al re ecco la testa di Zesboshet figliuolo di Saul tuo nemico il quale cercava di toglierti la vita l'Eterno ha oggi fatte le vendette del re mio signore sopra Saul e sopra la sua progenia ma Davide rispose a Reqab e a Banna suo fratello figliuolo di Rimom Berotita e disse loro com'è vero che vive l'Eterno il quale ha liberato l'anima mia da ogni distretta quando venne colui che mi portò la nuova della morte di Saul pensandosi di portarmi una buona notizia io lo feci prendere e uccidere a Ziklag per pagarlo della sua buona notizia quanto più adesso che uomini scelerati hanno ucciso un innocente in casa sua sul suo letto non avrò io ridomandare a voi ragion del suo sangue sparso dalle vostre mani e sterminarvi di sulla terra e Davide diede l'ordine ai suoi militi i quali li uccisero troncaron loro le mani e piedi e poi li appiccarono presso lo stagno di Ebrom presero quindi la testa di Shesh-boshet e la seppellirono nel sepolcro di Abner a Ebrom secondo Samuele capitolo quinto allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide a Ebrom e gli dissero ecco noi siamo tue ossa e tue carne già in passato quando Saul regnava su noi eri tu quel che guidavi e conducevi Israele e l'Eterno l'ha detto tu pascerai il mio popolo Israele tu sarai il principe di Israele così tutti gli anziani di Israele vennero dal re Ebrom e il re Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza dell'Eterno ed essi unsero Davide come re di Israele Davide aveva trent'anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni a Ebron regnò su Giù da sette anni e sei mesi e a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e Giuda ora il re con la sua gente si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano nel paese e questi dissero a Davide tu non entrerai qua giacché i ciechi e gli zoppi te ne respingeranno volendo dire Davide non ci entrerà mai ma Davide prese la fortezza di Sion che è la città di Davide e Davide disse in quei giorni chiunque batterà i Gebusei giungendo fino al canale e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono odiati da Davide donde il detto il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa e Davide abitò nella fortezza e la chiamò la città di Davide e vi fece intorno delle costruzioni cominciando da Milo e nell'interno Davide andava diventando sempre più grande e l'eterno l'iddio degli eserciti era con lui e Iran re di Tiro inviò a Davide dei messi e del legname di cedro delle legnaiuole dei muratori quali edificarono una casa a Davide allora Davide riconobbe che l'eterno lo stabiliva saldamente come re di Israele e rendeva grande il regno di lui per amore del popolo suo di Israele Davide si prese ancora delle concubine e delle mogli di Gerusalemme quando fu qui vi giunto da Ebron e gli nacquero altri figliuoli e altre figliuole questi sono i nomi dei figliuoli che gli nacquero in Gerusalemme Shammua Shabbot Natan Salomone Ibar Elishua Nefeg Jafia Elishama Eliada Elifelet Or quando i filestei ebbero dito che Davide era stato unto re di Israele saliron tutti in cerca di lui e Davide saputolo scese alla fortezza e i filestei giunsero e si sparsero nella valle dei Refaim allora Davide consultò l'eterno dicendo salirò io contro i filestei me li darai tu nelle mani e l'eterno rispose a Davide sali poiché certamente io darò i filestei nelle tue mani Davide dunque si portò a Baal per Azzim dove li sconfisse e disse l'eterno ha disperso i miei nemici dinanzi a me come si disparge l'acqua perciò pose nome a quel luogo Baal per Azzim i filestei lasciarono qui i loro ideli e Davide e la sua gente li portarono via i filestei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim e Davide consultò l'eterno il quale gli disse non salire gira le loro spalle e giungerai sul loro dirimpetto ai gelsi e quando udrai il rumore dei passi tra le vette dei gelsi lanciati subito all'attacco perché allora l'eterno marcerà la tua testa per sconfiggere l'esercito dei filistei Davide fece così come l'eterno gli aveva comandato e sconfisse i filistei da Geba fino a Gezar secondo Samuele capitolo sesto Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di trentamila poi si levò e con tutto il popolo che era con lui partì da Abba a lei di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome il nome dell'eterno degli eserciti che siede sovressa fra i cherubini e posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la levarono dalla casa di Abinadab che era sul colle e Uzza e Aio figlioli di Abinadab conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio Ahoyo andava innanzi all'arca e Davide e tutta la casa di Israele suonava davanti all'eterno ogni sorta di strumenti di legno di cipresso eccetera e salteri e timpano e sistri e cembali or come furono giunti all'aia di Nacon Uzza stesse la mano verso l'arca di Dio e la tenne perché i buoi la facevano piegare e l'ira dell'eterno s'accesse contro Uzza e Dio lo colpì qui vi per la sua temerità ed emorì in quel luogo presso l'arca di Dio Davide si attristò perché l'eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza e quel luogo è stato chiamato Peret Uzza fino al di Doji e Davide in quel giorno ebbe paura dell'eterno e disse come verrebbe ella da me l'arca dell'eterno e Davide non volle ritirare l'arca dell'eterno presso di sé nella città di Davide ma la fece portare in casa di Obed Edom di Gath e l'arca dell'eterno rimase tre mesi in casa di Obed Edom di Gath e l'eterno benedisse Obed Edom e tutta la sua casa allora fu detto al re Davide l'eterno ha benedetto la casa di Obed Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed Edom su nella città di Davide con Gaudio quando quelli che portavano l'arca dell'eterno avevano fatto sei passi simulava un bue e un vitello grasso e Davide danzava a tutta forza davanti all'eterno e serascinto di un efod di lino così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca dell'eterno con giubilo e a suon di tromba ora vene che come l'arca dell'eterno entrava nella città di Davide mica il figliuolo di Sao guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi all'eterno lo disprezzò in cuor suo portarono dunque l'arca dell'eterno e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide aveva rezzato per lei e Davide offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazia dinanzi all'eterno quando ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di azioni di grazie Davide benedisse il popolo nel nome dell'eterno degli eserciti e distribuì a tutto il popolo e a tutta la moltitudine di Israele uomini e donne un pane per uno una porzione di carne e una schiacciata di fichi secchi poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua e come Davide se ne tornava per benedire la sua famiglia Michal figliuola di Saul gli uscì incontro e gli disse bell'onore s'è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo da nulla Davide rispose a Michal l'ho fatto dinanzi all'eterno che m'ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele del popolo dell'eterno sì dinanzi all'eterno ho fatto festa anzi mi abbasserò anche di più di così e mi renderò abietto agli occhi miei eppure da quelle serve di cui tu parli proprio da loro io sarò onorato e Michal figliuola di Saul non ebbe figliuoli fino al giorno della sua morte secondo Samuele capitolo settimo ora venne che il re quando si fu stabilito nella sua casa e l'eterno gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i suoi nemici di ogni intorno disse al profeta Natan vedi io abito in una casa di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda Natan rispose al re va e fa tutto quello che hai in cuore di fare perché l'eterno è teco ma quella stessa notte la parola dell'eterno fu diretta a Natan in questo modo va e dia al mio servo Davide così dice l'eterno saresti tu quelli che mi edificherebbe una casa perché io vi dimori ma io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi i figliuoli di Israele dall'Egitto fino al di d'oggi e ho viaggiato sotto una tenda e in un tabernacolo dovunque sono andato or qua or là in mezzo a tutti i figliuoli di Israele o io forse mai parlato da alcuna delle tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele dicendole perché non mi edificate una casa di cedro ora dunque parlerai così al mio servo Davide così dice l'eterno degli eserciti io ti presi da allovire di dietro alle pecore perché tu fossi il principe di Israele mio popolo e come sono stato teco dovunque sei andato ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra ho assegnato un posto ad Israele mio popolo e ve l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato né seguitino gli iniqui ad opprimerlo come prima e fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele e t'ho dato riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici di più l'eterno t'annunzia che ti fonderà una casa quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri io innalzerò al trono dopo di te la tua progenie e il figlio che sarà uscito dalle tue viscere e stabilirò saldamente il suo regno egli edificherà una casa al mio nome ed io renderò stabile in perpetuo il trono del tuo regno io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliuolo e se fa del bene io lo aiuterò e se fa del male lo castigherò con verga d'uomo e con colpi degli uomini ma la mia grazia non si dipartirà da lui come se è departita da Saul che io ho rimosso dinanzi a te e la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre dinanzi a te e il tuo trono sarà reso stabile in perpetuo Nathan parlò a Davide secondo tutte le parole dell'Eterno e secondo tutta questa visione allora il re Davide andò a presentarsi davanti all'Eterno e disse chi sono io o Signore o Eterno e che è la mia casa che tu m'abbia fatto arrivare fino a questo punto e questo è parso ancora poca cosa agli occhi tuoi o Signore o Eterno e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire sebbene questa tua legge o Signore o Eterno si riferisca a degli uomini che potrebbe Davide dirti di più tu conosci il tuo servo Signore Eterno per amore della tua parola e seguendo il cuor tuo hai compiuto tutte queste grandi cose per rivelarle al tuo servo tu sei davvero grande o Signore o Eterno nessuno è pari a te e non v'è altro Dio fuori di te secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi e qual popolo è come il tuo popolo come Israele l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo e per farsi un nome e per compiere a suo procos grandi e tremende cacciando dinanzi al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto e dalle nazioni quei loro dei tu hai stabilito il tuo popolo di Israele per essere tuo popolo in perpetuo e tu o Eterno sei divenuto il suo Dio or dunque o Signore o Eterno la parola che hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa mantienila per sempre e fa come hai detto e il tuo nome sia magnificato in perpetuo e si dica l'Eterno degli eserciti è l'Iddio di Israele e la casa del tuo servo Davide sia stabile dinanzi a te poiché tu o Eterno degli eserciti Dio di Israele hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto io ti edificherò una casa perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera ed ora o Signore o Eterno tu sei Dio le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo affinché la sussista in perpetuo dinanzi a te poiché tu o Signore o Eterno sei quelli che ha parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta in perpetuo secondo Samuele capitolo ottavo dopo queste cose Davide sconfisse i filistei e li umilò e tolse di mano ai filistei la supremazia che avevano sconfisse pure i moabiti e fatteli giacere per terra li misurò con la corda e ne misurò due corde per farli mettere a morte e la lunghezza di una corda per lasciarli in vita e i moabiti divennero sudditi e tributari di Davide Davide sconfisse anche ad Adadzer figliolo di Rehob re di Zobah mentre gli andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate Davide gli prese mille e seicento cavalieri e ventimila pedoni e tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro ma riservò dei cavalli per cento carri e quando i siri di Damasco vennero per soccorrere ad Adezar re di Zobah Davide ne uccise ventiduemila poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i siri divennero sudditi e tributari di Davide e l'eterno rendea vittorioso Davide ovunque egli andava e Davide tolse ai servidi ad Adezar i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme il re Davide prese anche una gran quantità di Rame a Betat e a Berothai città di Adadezar or quindi Toi re di Amat ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezar mandò al re Davide e Gioran suo figliolo per salutarlo e per benedirlo perché aveva mosso guerra a Adadezar e l'aveva sconfitto Adadezar era sempre in guerra con Toi e Gioran portò seco dei vasi d'argento dei vasi d'oro e dei vasi di rame e il re Davide consacrò anche quelli all'eterno come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che avevano soggiogate ai siri ai moabiti agli ammoniti ai filistei e agli amalechiti e come aveva fatto del bottino di Adadezar figliolo di Reob re di Zorba e al ritorno della sua vittoria sui siri Davide s'acquistò ancora fama sconfiggendo nella valle del sale diciotto mila idumei e pose delle guarnigioni in idumea ne mise per tutta l'idumea e tutti gli edomiti divennero sudditi di Davide e l'Eterno rendea vittorioso Davide ovunque egli andavida Davide regnò su tutto Israele facendo ragione e ammaestrando la giustizia a tutto il suo popolo e Gioab figliolo di Serruia comandava l'esercito Giosafat figliolo di Heilud era cancelliere Sadok figliolo di Haitub e Ahimelech figliolo di Abiatar erano sacerdoti Seraia era segretario e Benaia figliolo di Jehohada era capo dei Chiretei e dei Peretei e i figlioli di Davide erano ministri di stato secondo Samuele capitolo nono e Davide disse e vi egli rimasto alcuno della casa di Saul a cui io possa far del bene per amore di Jonathan or vera un servo della casa di Saul per nome Ziba che fu fatto venire presso Davide e il re gli chiese sei tu Ziba e quelli rispose servo tuo e il re gli disse vi egli più alcuno della casa di Saul a cui io possa fare del v'è ancora un figliuolo di Jonathan storpiato dei piedi il re gli disse dove egli Ziba rispose al re è in casa di machir figliuolo di Amiel all'Odebar allora il re lo mandò a prendere in casa di machir figliuolo di Amiel all'Odebar e Mefiboshet figliuolo di Jonathan figliuolo di Saul venne da Davide e si gettò con la faccia a terra e si prostrò dinanzi a lui Davide gli rispose non temere perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre e ti renderò tutte le terre di Saul tuo avolo e tu mangerai sempre alla mia mensa Mefiboshet si inchinò profondamente e disse che cos'è il tuo servo che tu ti degni di guardare un cane morto come sono io allora il re chiamò Ziba servo di Saul e gli disse tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io la do al figliolo del tuo signore tu dunque con i tuoi figlioli e con i tuoi servi lavoragli le terre e fa le raccolte affinché il figliolo del tuo signore abbia pane da mangiare e Mefiboshet figliolo del tuo signore mangerà sempre la mia mensa Or Siba aveva al suo servo e Mefiboshet mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re Or Mefiboshet aveva un figlioletto per nome Mica e tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboshet Mefiboshet dimorava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re era zoppo da ambe due i piedi secondo Samuele capitolo decimo Or avvenne dopo queste cose che il re dei figlioli di Ammon morì e Hanun suo figliolo regnò in luogo di lui Davide disse io voglio usare verso Hanun figliolo di Nahash la benevolenza che suo padre usò verso di me e Davide mandò i suoi servi a consolarlo della perdita del padre ma quando i servi di Davide furono giunti nel paese dei figlioli di Ammon i principi dei figlioli di Ammon dissero ad Hanun loro signore credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre non ha egli piuttosto mandato da te i suoi servi per esplorare la città per spiarla e distruggerla allora Hanun prese i servi di Davide fece loro radere la metà della barba e tagliare la metà delle vesti fino alle natiche poi li rimandò quando fu informato della cosa Davide mandò gente ad incontrarli perché quegli uomini erano oltremondo confusi e il re fece loro dire restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba poi tornerete i figlioli di Ammon avendo notato che s'erano attirato l'odio di Davide mandarono a prendere a loro soldo ventimila fanti dei siri di bet re hob dei siri di zoba mille uomini del re ma ha e dodicimila uomini dell'agente di tob quando Davide di questo inviò contro di loro job con tutto l'esercito degli uomini di valore i figlioli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città mentre i siri di zoba e di re hob e la gente di tob e ma ha stavano in parte nella campagna or come job vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle scelse un corpo fra gli uomini migliori di israele lo dispose in ordine di battaglia contro i siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini del suo fratello Abishai per tener fronte ai figlioli di Ammon e disse ad Abishai se i siri sono più forti di me tu mi darai soccorso e se i figlioli di Ammon sono più forti di te andrò io a soccorrerti abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per la città del nostro dio e faccia all'eterno quello che a lui piacerà poi Joab con la gente che aveva seco s'avanzò per attaccare i siri i quali fuggirono dinanzi Ammon videro che i siri erano fuggiti fuggirono anch'essi dinanzi ad Abishai e rientrarono nella città allora Joab se ne tornò dalla spedizione contro i figlioli di Ammon e venne a Gerusalemme i siri vedendosi sconfitti da Israele si riunirono in massa ad Adazzer mandò a far venire i siri che abitavano di là dal fiume e quelli giunsero ad Helam con alla testa Shobak capo dell'esercito di Adadezer e la cosa fu riferita a Davide che radunò tutto Israele presso il Giordano e giunse ad Helam e i siri si ordinarono in battaglia contro Davide e impegnarono all'azione ma i siri fuggirono dinanzi a Israele e Davide uccise ai siri gli uomini di settecento carri quarantamila cavalieri e sconfisse pure Shobak capo del loro esercito che morì quivi e quando tutti i re vassalli di Adadezer si videro sconfitti da Israele fecero pace con Israele e furono a lui soggetti e i siri non osarono più recar soccorso ai figliuoli di Amon secondo Samuele capitolo undicesimo ora venne che l'anno seguente nel tempo in cui i re solliono andare alla guerra Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figliuoli di Amon e ad assediare Rabbah ma Davide rimase a Gerusalemme una sera Davide alzandosi dal suo letto si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava e la donna era bellissima Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto è Batshiba figliuola di Eliam moglie di Urialo Iteo e Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui che si era purificata dalla sua contaminazione poi ella se ne tornò a casa sua la donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo sono incinta allora Davide fece dire a Joab mandami Urialo Iteo e Joab mandò Uria da Davide come Uria fu giunto da Davide questi gli chiese come stessero Joab e il popolo e come andasse la guerra poi Davide disse ad Uria scendi a casa tua e lavati i piedi Uria uscì dal palazzo reale e li furono portati appresso delle vivande del re ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua e come ciò fu riferito a Davide e gli fu detto Uria non è sceso a casa sua Davide disse ad Uria non vieni tu da viaggio perché dunque non sei sceso a casa tua Uria rispose a Davide l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende Gioab mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io me ne entrerei in casa mia per mangiare e bere per dormire con mia moglie com'è vero che tu vivi e che vive l'anima tua io non farò tal cosa e Davide disse ad Uria trattienti qui anche oggi e domani ti lascerò partire così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno ed il seguente e Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo ubriacò e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio coi servi del suo signore ma non scese a casa sua la mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per le mani d'Uria nella lettera aveva scritto così ponete Uria al fronte dove più ferve la mischia poi ritiratevi da lui perché gli resti colpito e muoia Joab dunque assediò la città pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab parecchi del popolo della gente di Davide caddero e perì anche Uria lo iteo allora Joab inviò un messo a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messo quest'ordine quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia se il re va in collera e ti dice perché vi siete accostati così alla città per dar battaglia non sapevate voi che avrebbero tirato di sulle mura? chi fu che uccise Abimelec figliolo di Gerubbashet non fu ella una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura sì che egli morì a Tebez perché vi siete accostati così alle mura? tu allora gli dirai il tuo servo Uria lo iteo è morto anche egli il messo dunque partì e giunto riferì a Davide tutto quello che Joab l'aveva incaricato di dire il messo disse a Davide i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città allora gli arcieri tirarono sulla gente di sulle mura e parecchi della gente del re perirono e Uria lo iteo tuo servo per i anch'egli allora Davide disse al messo dirai così a Joab non ti dolga quest'affare perché la spada or divora l'uno ed or l'altro rinforza l'attacco contro la città e distruggila e tu fagli coraggio quando la moglie di Uria udì che Uria suo marito era morto lo pianse e finito che ella ebbe il lutto Davide la mandò a cercare l'accolse in casa sua e la divenne sua moglie e gli partorì un figliuolo ma quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno secondo Samuele capitolo dodicesimo e l'Eterno mandò Nathan a Davide e Nathan andò da lui e gli disse verano due uomini nella stessa città uno ricco e l'altro povero il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero ma il povero non aveva nulla fuorché una piccola agnellina che gli aveva comprata ed allevata essa gli era cresciuta in casa e insieme ai suoi figliuoli mangiando il pane di lui bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno ed essa era per lui come una figliuola or essendo arrivato un viaggiatore a casa dell'uomo ricco questi risparmiando le sue pecore e i suoi buoi non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui ma pigliò l'agnellina di quel povero uomo e ne fece delle vivande per colui che gli era venuto in casa allora l'ira di Davide si accese fortemente contro quell'uomo e disse a Nathan come è vero che l'Eterno vive colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa e non aver avuto pietà allora Nathan disse a Davide tu sei quell'uomo così dice l'Eterno lì Dio di Israele io t'ho unto re di Israele e t'ho liberato dalle mani di Saul t'ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore t'ho dato la casa di Israele e di Giuda e se questo era troppo poco t'avrei aggiunto anche dell'altro perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi tu hai fatto morire con la spada Urialo Iteo hai preso per tua moglie la moglie sua e ha ucciso lui con la spada dei figlioli di Amon or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa giacché tu mai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Urialo di Urialo Iteo così dice l'Eterno ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue moglie sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giaccerà con esse in faccia a questo sole poiché tu l'hai fatto in segreto ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole allora Davide disse a Natan ho peccato contro l'Eterno e Natan rispose a Davide e l'Eterno t'ha perdonato il tuo peccato tu non morrai non di meno siccome facendo così tu hai data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare il figliolo che è tenato dovrà morire Natan se ne tornò a casa sua e l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Urialo aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino digiunò poi venne e passò la notte giacendo per terra gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra ma egli non volle e rifiutò di prender cibo con essi ora venne che il settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto poiché dicevano ecco quando il bambino era ancora vivo noi gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole come faremo ora a dirgli che il bambino è morto egli andrà in qualche estremo ma Davide vedendo che i suoi servi bisbigliavano fra loro comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi è morto il bambino quelli risposero è morto allora Davide si alzò da terra si lavò si unse si mutò le vesti poi andò nella casa dell'Eterno e vi si prostrò e tornando a casa sua chiese che gli si portasse da mangiare e mangiò i suoi servi gli dissero cosa fai quando il bambino era vivo ancora tu digiunavi e piangevi ed ora che è morto ti alzi e mangi egli rispose quando il bambino era vivo ancora digiunavo e piangevo perché dicevo chissà che l'Eterno non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita ma ora che gli è morto perché digiunerei posso io farlo ritornare io me ne andrò a lui ma egli non ritornerà a me poi Davide consolò Basciba sua moglie entrò da lei e si giacque con essa ed ella partorì un figliuolo al quale gli pose nome Salomone l'Eterno amò Salomone e mandò il profeta Natam e gli pose nome Iedidia a motivo che l'amore dell'Eterno gli portava o Gioab assedio Rabba dei figlioli di Hamon si impadronì della città reale e inviò dei messi a Davide per dirgli ho assalito Rabba e mi son già impossessato della città delle acque o dunque raduno il rimanente del popolo accampati contro la città prendila affinché prendendola io non abbia portare il mio nome Davide radunò tutto il popolo si mosse verso Rabba la salì e la prese e tolse dalla testa dell'orore la corona che pesava un talento d'oro e conteneva pietre preziose ed essa fu posta sulla testa di Davide egli riportò anche dalla città grandissima preda fece uscire gli abitanti che erano nella città e mise i loro corpi sotto delle seghe degli erpici di ferro e delle scure di ferro e li fece gettare in fornaci di mattoni e così fece a tutte le città dei figlioli di Hamon poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo secondo Samuele capitolo tredicesimo or dopo queste cose avvenne che avendo Absalom figliolo di Davide una sorella di nome Tamar che era di bello aspetto Amon figliolo di Davide se ne innamorò ed Amon si appassionò a tal punto per Tamar sua sorella da diventarne malato perché quella era vergine e pareva difficile ad Amon di poterle fare alcunché or Amon aveva un amico per nome Jonadab figliolo di Scimea fratello di Davide e Jonadab era un uomo molto accorto questi gli disse o figliolo del re perché vai tu di giorno in giorno dimagrendo a questo modo non me lo vuoi dire e Amon gli rispose sono innamorato di Tamar sorella di mio fratello Absalom e Jonadab gli disse mettiti a letto e fingiti malato e quando tuo padre verrà a vederti dirgli fatti prego che la mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza sì che io la vegga e lo mangerò quando mi sarà porto dalle sue mani Amon dunque si mise a letto e si finse ammalato e quando il re lo venne a vedere Amon gli disse fatti prego che la mia sorella Tamar venga e faccia un piatto di frittelle in mia presenza così le mangerò quando mi saranno porte dalla sua mano allora Davide mandò a casa di Tamar a dirle va a casa di Amon tuo fratello e preparali qualcosa da mangiare Tamar andò a casa di Amon suo fratello che giaceva in letto e la presi della farina stemperata l'intrinsel ne fece delle frittelle in sua presenza e le cosse poi prese la padella e ne trasse le frittelle e le mise dinnanzi ma egli rifiutò di mangiarle e disse fate uscire di qui tutta la gente e tutti uscirono allora Amon disse a Tamar portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani e Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amon suo fratello e come essa gliele porgeva perché mangiasse egli la ferrò e le disse vieni a giacerti meco sorella mia ed essa gli rispose no fratello mio non farmi violenza questo non si fa in Israele non commettere una tale infamia io dove andrei a portare la mia vergogna e quanto a te tu saresti messo fra gli scelerati in Israele te ne prego parlane piuttosto al re ed egli non mi negherà a te ma egli non vole darle ascolto ed essendo più forte di lei la violentò e si giacque con lei poi Amon concepì verso di lei un odio fortissimo talmente che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima e le disse levati e vattene e la gli rispose non mi fare cacciandomi un torto maggiore di quello che mi hai già fatto ma egli non volle ascoltarla anzi chiamato il servo che lo assisteva gli disse caccia via costei lungi da me e chiudele la porta dietro or ella portava una tunica con le maniche poiché le figliuole del re portavano simili vesti finché erano vergini e il servo di Amon dunque la mise fuori e le chiuse la porta dietro e Tamar si sparse della scenere sulla testa si stracciò di dosso la tunica con le maniche e mettendosi la mano sul capo se ne tornò via gridando Absalom suo fratello le disse forse che Amon tuo fratello è stato teco per ora tasci sorella mia egli è tuo fratello non t'accorare per questo e Tamar desolata rimase in casa di Absalom suo fratello il re Davide udì tutte queste cose e ne fu fortemente addirato ed Absalom non rivolse ad Amnon alcuna parola né in bene né in male perché odiava Amnon per aver egli violentato a Tamar sua sorella or due anni dopo avvenne che facendo Absalom tosare le sue pecore a Bar at Zor presso Efraim egli invitò tutti i figliuoli del re Absalom andò a trovare il re e gli disse ecco il tuo servo ai tosatori ti prego venga anche il re con i suoi servitori a casa del tuo servo ma il re disse ad Absalom no figliuolo mio non andiamo tutti che non ti siamo da gravio e benché Absalom insistesse il re non voleva andare ma gli diede la sua benedizione ed Absalom disse se non vuoi venire tu ti prego permetti Adamno mio fratello di venire con noi e il re gli rispose e perché andrebbe di Teco ma Absalom tanto insiste che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figliuoli del re or Absalom diede quest'ordine ai suoi servi badate quando Amnon verrà il cuore riscaldato dal vino ed io vi dirò colpite Amnon voi uccidetelo e non abbiate paura non son io che ve lo comando fatevi cuore e comportateli da forti i servi di Absalom fecero ad Amnon come Absalom aveva comandato allora tutti i figliuoli del re si levarono montaron ciascuno sul suo mulo e se ne fuggirono or mentre essi erano ancora per via giunse a Davide la notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figliuoli del re e che non uno di loro era scampato allora il re si levò si strappò le vesti e si gettò per terra e tutti i suoi servili stavano da presso con le vesti stracciate ma Gionadab figliuolo di Scemea fratello di Davide prese a dire non dica il mio signore che tutti i giovani figliuoli del re sono stati uccisi il solo Amnon è morto per Absalom era una cosa decisa fin dal giorno che Amnon li violentò la sorella Tamar così dunque non si accorre il re mio signore come se tutti i figliuoli del re fossero morti il solo Amnon è morto or Absalom aveva preso la fuga e il giovane che stava le vedette e alzò gli occhi guardò ed ecco che una gran turba di gente veniva per la via verso Ponente dal lato del monte e Gionadab disse al re ecco i figliuoli del re che arrivano la cosa sta come il tuo servo ha detto e come egli ebbe finito di parlare ecco giungere i figliuoli del re i quali alzarono la voce e piansero ed anche il re e tutti i suoi servi versarono abbondanti lacrime quanto ad Absalom se ne fuggì e andò a Talmai figliuolo di Amihur re di Geshur e Davide faceva cordoglio del suo figliuolo ogni giorno Absalom rimase tre anni a Geshur dove era andato dopo aver preso la fuga e l'ira del re Davide contro Absalom si calmò perché Davide si era consolato della morte di Amnon secondo Samuele capitolo quattordicesimo or Gioa figliuolo di Zeruia avendosi che il cuore del re si piegava verso Absalom mandò a Tecoa e ne fece venire una donna accorta alla quale disse fingi di essere in lutto mettiti una veste da lutto e non ti ungere con olio e si come la donna che piange da molto tempo un morto poi entra presso al re e parla di così e così e Gioable mise in bocca le parole da dire la donna di Tecoa andò dunque a parlare dal re si gettò con la faccia a terra si prostrò e disse oh re aiutami e il re le disse che hai ed ella rispose purtroppo io sono una vedova mio marito è morto la tua serva aveva due figlioli i quali venero tra di loro a contesa nella campagna e come non vera chi li separasse l'uno colpì l'altro e l'uccise ed ecco che tutta la famiglia è insorta contro la tua serva dicendo consegnaci colui che ha ucciso il fratello affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso e per sterminare così anche l'erede in questo modo spegneranno il tizio che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla faccia della terra il re disse alla donna vattene a casa tua io darò degli ordini a tuo riguardo e la donna di Tecoa disse al re oh re mio signore la colpa cade su me e sulla casa di mio padre ma il re e il suo trono non ne siano responsabili e il re se qualcuno parla contro di te menalo da me e vedrai che non ti toccherà più allora ella disse ti prego menzioni il re l'eterno il tuo dio perché il vindice del sangue non aumenti la rovina e non mi sia sterminato il figlio ed egli rispose com'è vero che l'eterno vive non cadrà a terra un capello del tuo figliuolo allora la donna disse ed è lascia che la tua serva dica ancora una parola al re mio signore ed egli rispose parla riprese la donna e perché pensi tu nel modo che fai quando si tratta del popolo di Dio dalla parola che il re ha ora pronunziato risulta essere egli in certo modo colpevole in quanto non richiama colui che ha proscritto non dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere ma Dio non toglie la vita anzi medita il modo di far sì che il proscritto non rimanga bandito lungi da lui ora se io sono venuto a parlare così al re mio signore è perché il popolo mi ha fatto paura e la tua serva ha detto voglio parlare al re forse il re farà quello che gli dirà la sua serva e il re ascolterà la sua serva e libererà dalle mani di quelli che vogliono sterminare me e il mio figliolo dalla eredità di Dio e la tua serva diceva oh possa la parola del re mio signore darmi tranquillità poiché il re mio signore è come un angelo di Dio per discennere il bene dal male l'eterno il tuo Dio sia teco e il re rispose e disse alla donna ti prego non celarmi quello che t'ho domandato e la donna disse parli pure il re mio signore e il re Dio non t'ha egli dato in mano in tutto questo e la donna rispose come è vero che l'anima tua vive oh re mio signore la cosa sta né più né meno come ha detto il re mio signore infatti infatti il tuo servo Joab è colui che mi ha dato questi ordini ed è lui che ha messe tutte queste parole in bocca alla tua serva il tuo servo Joab ha fatto così per dare un altro aspetto all'affare di Absalom ma il mio signore ha la salvezza di un angelo di Dio e conosce a tutto quello che avviene sulla terra allora il re disse a Joab ecco voglio fare quello che hai chiesto va dunque e far tornare il giovane Absalom Joab si scettò con la faccia a terra si prostrò benedisse il re e disse oggi il tuo servo riconosce chi ha trovato grazie agli occhi tuoi oh re mio signore poiché il re ha fatto quel che il suo servo gli ha chiesto Joab dunque si levò andò a Geshur e menò Absalom a Gerusalemme e il re disse che si ritiri in casa sua e non vega la mia faccia così allora Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re or in tutto Israele non vera uomo che fosse celebrato per la sua bellezza al pari di Absalom dalle piante dei piedi alla cima del capo non vera un difetto alcuno e quando si faceva tagliare i capelli e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo il peso dei suoi capelli era di duecento sicli e peso del re e Absalom nacquero tre figlioli e una figliola per nome Tamar che era una donna di bell'aspetto Absalom dimorò in Gerusalemme due anni senza vedere la faccia del re poi Absalom fece chiamare Joab per mandarlo dal re ma egli non volle venire a lui lo mandò a chiamare una seconda volta ma Joab non volle venire allora Absalom disse ai suoi servi guardate il campo di Joab è vicino al mio e vede l'orzo andate a mettervi il fuoco e i servi di Absalom misero fuoco al campo allora Joab si levò e andò a casa di Absalom e gli disse perché i tuoi servi hanno essi dato fuoco al mio campo Absalom rispose a Joab io t'avevo mandato a dire vieni qua che io possa mandarti dal re a dirgli perché sono io tornato da Geshur meglio per me se vi fossi ancora ordunque fa che vegga la mia faccia e se ve in me qualche iniquità che mi faccia morire Joab allora andò dal re e gli fece l'ambasciata il re fece chiamare Absalom il quale venne a lui e si prostrò con la faccia terra in sua presenza e il re baciò Absalom secondo Samuele capitolo quindicesimo or dopo queste cose Absalom si procurò un cocchio di cavalli e cinquanta uomini che correvano dinanzi a lui Absalom si levava la mattina presto e si metteva da un lato della via che menava le porte della città e quando qualcuno avendo un processo si recava dal re per chiedere giustizia Absalom lo chiamava e gli diceva di qual città sei tu e l'altro gli rispondeva il tuo servo è di tale o di tale tribù di Israele allora Absalom gli diceva vedi la tua causa è buona e giusta ma non vè chi sia degno dal re per sentirti e Absalom aggiungeva oh se facessero me giudice del paese chiunque avesse un processo o un affare verrebbe da me e io gli farei giustizia e quando uno gli si accostava per prostrarglisi dinanzi e gli porgeva la mano l'abbracciava e lo baciava Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per chiedere giustizia e in questo modo Absalom rubò il cuore alla gente di Israele ora avvenne che in capo a quattro anni Absalom disse al re ti prego lasciami andare ad Ebrom a sciogliere un voto che fece all'Eterno poiché durante la sua dimora a Geshur in Siria il tuo servo fece un voto dicendo se l'Eterno mi riconduce a Gerusalemme io servirò l'Eterno e il re gli disse va in pace e quelli si levò e andò a Ebrom intanto Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù di Israele a dire quando udrete il suono della tromba direte Absalom è proclamato re a Ebrom ecco Absalom partirono da Gerusalemme duecento uomini i quali essendo stati inviati partirono in tutta la loro semplicità senza saper nulla Absalom mentre offriva i sacrifici mandò a chiamare Aitofer il Ghilonita consigliere di Davide perché venisse dalla sua città di Ghilo la congiura divenne potente e il popolo andava via più crescendo di numero attorno ad Absalom or venne a Davide un messo e gli disse il cuore degli uomini di Israele è volto verso Absalom allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme levatevi e fuggiamo altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom affrettatevi a partire affinché con rapida marcia non ci sorprenda piombandosi rovinosamente addosso e non colpisca la città mettendo la fil di spada e i servi del re gli dissero ecco i tuoi servi pronti a fare quello che piacerà al re nostro signore il re dunque partì seguito da tutta la sua casa e lasciò dieci concubine a costudire il palazzo il re partì seguito da tutto il popolo e si fermarono a Beth Merhak e tutti i servi del re camminavano al suo fianco e tutti i caretei e tutti i paletei e tutti i ghitei che in seicento erano venuti da Gath al seguito camminavano davanti al re allora il re disse ai tai di Gath perché vuoi anche tu venire con noi torna indietro e stati con il re poiché sei un forestiero e per di più un esule dalla tua patria pur ieri tu arrivasti e oggi ti farei io andare errando qua e là con noi mentre io stesso non so dove vado torna indietro e ricondusci te coi tuoi fratelli e siano con te la misericordia e la fedeltà dell'Eterno ma i tai rispose al re dicendo com'è vero che l'Eterno vive e che vive il re mio signore in qualunque luogo sarà il re mio signore per morire o per vivere qui vi sarà pure il tuo servo e Davide disse ai tai va passa oltre ed i tai il ghiteo passò oltre con tutta la sua gente e con tutti i fanciulli che erano con lui e tutti quelli del paese piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo passava il re passò il torrente Kidron e tutto il popolo passò prendendo la via del deserto ed ecco venire anche Tzadok con tutti i leviti i quali portavano l'arca del patto di Dio e mentre abbiatà saliva essi posarono l'arca di Dio finché tutto il popolo non ebbe finito di uscire dalla città e il re disse a Tzadok riporta in città l'arca di Dio se io trovo grazie agli occhi dell'Eterno egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca che è la dimora di lui ma se dice io non ti gradisco eccomi faccia egli di me quello che gli parrà il re disse ancora al sacerdote Tzadok capisci torna in pace in città con i due vostri figlioli Aimaat suo figliolo e Jonathan figliolo di Abiatar guardate io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra così Tzadok e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e dimorarono quivi e Davide saliva il monte degli olivi saliva piangendo e camminava col capo coperto e i piedi scalzi e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva qualcuno venne a dire a Davide Ahitophel è con Absalom fra i congiurati e Davide disse Deo eterno rendi vani i consigli di Ahitophel e come Davide fu giunto in vetta al monte e al luogo dove si adora Dio ecco farli s'incontro usciai l'archita con una tunica stracciata e il capo coperto di polvere e Davide gli disse se tu passi oltre con me mi sarai di peso ma se torni in città e dici ad Absalom io sarò tuo servo re come fui servo di tuo padre nel passato così sarò adesso servo tuo tu dissiperai a mio pro i consigli di Ahitophel e non avrai tu quivi te quei sacerdoti Zadok e Abiatar tutto quello che sentirai dire della casa del re lo farai sapere ai sacerdoti Zadok e Abiatar e siccome essi hanno seco i loro due figlioli Aimaaz figliolo di Zadok e Jonathan figliolo di Abiatar per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito così Ushai amico di Davide tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme secondo Samuele capitolo sedicesimo or quando Davide ebbe di poco varcato la scimma del monte ecco che Ziba servo di Mephiboshet gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento pani cento masse d'uva secca cento di frutta d'estate e un'otre di vino il re disse a Ziba che vuoi tu fare di coteste cose e Ziba rispose gli asini serviranno di cavalcatura alla casa del re il pane e i frutti d'estate sono per nutrire i giovani e il vino è perché ne bevan quelli che saranno stanchi nel deserto e il re disse dov'è il figliuolo del tuo signore e Ziba rispose al re ecco è rimasto a Gerusalemme perché ha detto oggi la casa di Israele mi renderà il regno di mio padre e il re disse a Ziba tutto quello che appartiene a Mephiboshet è tuo Ziba replicò io mi prostro dinanzi a te possa io trovare grazie agli occhi tuoi re mio signore e quando il re Davide fu giunto a Burim ecco uscire di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul per nome Shimei figliuolo di Gera egli veniva innanzi proferendo maledizioni e gettando sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re Shimei maledicendo Davide diceva vattene vattene uomo sanguinario e scelerato l'Eterno fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul in luogo del quale tu hai regnato e l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom tuo figliuolo ed eccoti nelle sciagure che ti sei meritato perché sei un uomo sanguinario allora Abishai figliuolo di Zeruia disse al re perché questo cane morto osa egli maledire il re mio signore ti prego lasciami andare a troncargli la testa ma il re rispose che ho io da far con voi figliuolo di Zeruia se mi maledice è perché l'Eterno gli ha detto maledici Davide e chi oserà dire perché fai così poi Davide disse ad Abishai e a tutti i suoi servi ecco il mio figliuolo è uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita quanto più lo può fare ora questo beniaminita lasciate che ei maledica giacché glielo ha ordinato l'Eterno forse l'Eterno avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in cambio delle maledizioni d'oggi Davide e la sua gente continuarono il loro cammino e Scimei camminava sul fianco del monte di rimpetto a Davide e cammin facendolo malediva e gli tirava dei sassi e buttava della polvere il re e tutta la gente che era con lui arrivarono a Aiefim e qui vi ripresero fiato or Absalom e tutto il popolo gli uomini di Israele erano entrati in Gerusalemme ed Aitofer era con lui e quando Ushai l'archita l'amico di Davide fu giunto presso Absalom gli disse viva il re viva il re ed Absalom disse a Ushai è questa dunque l'affezione che hai per il tuo amico perché non sei tu andato col tuo amico Ushai rispose ad Absalom no io sarò di colui che l'Eterno e questo popolo e tutti gli uomini di Israele hanno scelto e con lui rimarrò e poi di chi sarò io servo non lo sarò io del suo figliuolo come ho servito tuo padre così servirò te allora Absalom disse a Aitofer consigliate quello che dobbiamo fare Aitofer rispose ad Absalom entra dalle concubine di tuo padre lasciate da lui a custodia della casa e quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre il coraggio di quelli che son per te sarà fortificato fu dunque rizzata una tenda sulla terrazza per Absalom ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre a vista di tutto Israele ora in quei giorni un consiglio dato da Aitofer era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato così era di tutti i consigli di Aitofer tanto per Davide quanto per Absalom secondo Samuele capitolo dicesettesimo poi Aitofer disse ad Absalom lasciami scegliere dodicimila uomini e partirò e inseguirò Davide questa notte stessa e gli piomberò addosso mentre gli è stanco e ha le braccia fiacche lo spaventerò e tutta la gente che con lui si darà la fuga ed io colpirò il re solo e ricondurrò a te tutto il popolo l'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti e così tutto il popolo sarà in pace questo parlare piacque ad Absalom e a tutti gli anziani di Israele e non di meno Absalom disse chiamate ancora Ushai l'archita e sentiamo quello che anche lui gli dirà e quando Ushai fu venuto da Absalom questi gli disse Aitofer ha parlato così e così dobbiamo noi fare come ha detto lui se no parla tu Ushai rispose ad Absalom questa volta il consiglio dato da Aitofer non è buono e Ushai soggiunse tu conosci i tuoi padri e i suoi uomini e sai come sono gente valorosa e come hanno l'animo esasperato al par d'un'orsa nella campagna quando le sono stati rapiti i figli e poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte col popolo senza dubbio egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo e avverrà che se fin dal principio ne cadranno alcuni dei tuoi chiunque lo vedrà e sapere dirà tra la gente che seguiva Absalom c'è stata una strage allora il più valoroso anche se avesse il cuore di leone si avvilirà perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che quelli che ha seco sono dei valorosi perciò io consiglio che tutto Israele da Dan fino a Beersheba si raduni presso di te numeroso come l'arena che è solido del mare e che tu vada in persona alla battaglia così lo raggiungeranno in qualunque lodo egli si troverà gli cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo e tutti quelli che sono con lui non potranno scampare e se egli si ritira in qualche città tutto Israele cingerà di funi quella città e noi la trascineremo nel torrente in guisa che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero il consiglio di Usha e l'archita è migliore di quello di Ahitofel l'Eterno aveva stabilito di render vano il buon consiglio di Ahitofel per far cadere la sciagura sopra Absalom allora Usha disse ai sacerdoti Zatok e a Biatar Ahitofel ha consigliato a Absalom e gli anziani di Israele così e così io ho consigliato in questo e in questo modo or dunque mandate in fretta di informare Davide e diteli non passare la notte nelle pianure del deserto ma senz'altro va oltre affinché il re con tutta la gente che ha seco non rimanga sopraffatto or Jonathan e Aimaaz stavano appostati presso Enrogel ed essendo la serva andata ad informarli essi andarono ad informare il re Davide poiché essi non potevano entrare in città in modo palese or un giovinetto li aveva scorti e ne aveva avvisato Absalom ma i due partirono di corsa e giunsero a Baurim in casa di un uomo che aveva nella sua corte una cisterna quelli vi si calarono e la donna di casa prese una coperta la distese sulla bocca della cisterna e vi sparse su del grano pesto cosicché nessuno ne seppe più nulla i servi di Absalom vennero in casa di quella donna e chiesero dove sono Aimaaz e Jonathan e la donna rispose loro hanno passato il ruscello quelli si misero a cercarli e non poterono trovarli e se ne tornarono a Gerusalemme e come quelli se ne furono andati due uomini uscirono fuori dalla cisterna e andarono a informare il re Davide gli dissero levati e affrettati a passare l'acqua perché ecco qual è il consiglio che Ahitophel ha dato a vostro danno allora Davide si levò con tutta la gente che era con lui e passò il Giordano all'apparire del giorno neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano Ahitophel vedete che il suo consiglio non era stato seguito selò il suo asino e partì per andarsene a casa sua nella sua città mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre or Davide giunse a Mahanahim e Absalom anche egli passò il Giordano con tutta la gente di Israele Absalom aveva posto a capo dell'esercito Amasa invece di Joab or Amasa era figliuolo di un uomo chiamato Gitra l'Ishmaelita il quale aveva avuto relazioni con Abigal figliola di Nash sorella di Zerria madre di Joab e Israele ed Absalom si accamparono nel paese di Galahad quando Davide fu giunto a Mahanahim Shobi figliuolo di Nahash che era da Rabba città degli Ammoniti Makir figliuolo di Ammier da Lodabar e Barzilai il Galah dita di Roghelim portarono dei letti dei bacini dei vasi di terra del grano dell'orzo della farina del grano arrostito delle fave delle lenticchie dei legumi arrostiti del miele del burro delle pecole dei formaggi di vacca per Davide e per la gente che era con lui affinché mangiassero perché dicevano questa gente deve aver patito la fame stanchezza e sete nel deserto secondo Samuele capitolo diciottesimo or Davide fece la rivista della gente che aveva seco e costituì dei capitani di migliaia e dei capitani di centinaia per comandarla e fece marciare un terzo della sua gente sotto il comando di Joab un terzo sotto il comando di Abishai figliuolo di Zerruia fratello di Joab e un terzo sotto il comando di Ittai di Gath poi il re disse al popolo voglio andare anch'io con voi ma il popolo rispose tu non devi venire perché se noi fossimo messi in fuga non si farebbe alcun caso di noi quant'anche perissere la metà di noi non se ne farebbe alcun caso ma tu conti per diecimila di noi ordunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città e il re rispose loro farò quello che vi par bene e il re si fermò presso la porta mentre tutto l'esercito usciva a schiere di cento e di mille uomini e il re diede quest'ordine a Joab ad Abishai e ad Adittai per amor mio trattate con tutto riguardo il giovane Absalom e tutto il popolo udì quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine relativamente ad Absalom l'esercito si mise dunque in campagna contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim e il popolo di Israele fu qui vi sconfitto dalla gente di Davide e la strage ivi fu grande in quel giorno e caddero ventimila uomini la battaglia si estese su tutta la contrada e la foresta divorò in quel giorno assai più gente di quella che non avesse divorato la spada e Absalom si imbatté nella gente di Davide e Absalom cavalcava il suo mulo il mulo entrò sotto i rami intrecciati di un gran terebinto e il capo di Absalom si impigliò nel terebinto tal che egli rimase sospeso fra cielo e terra mentre il mulo che gli era sotto di lui passava oltre un uomo vide questo e lo venne a riferire a Joab dicendo ho veduto Absalom appeso a un terebinto Joab rispose all'uomo che gli recava la nuova come tu l'hai visto e perché non l'hai tu sul posto stesso morto al suolo io non avrei mancato di darti dieci sicli d'argento e una cintura ma quell'uomo disse a Joab quant'anche mi fossero messi in mano mille sicli d'argento io non metterei la mano addosso al figliolo del re poiché noi l'abbiamo udito dare l'ordine a te ad Abishai e ad Aritai dicendo badate che nessuno tocchi il giovane Absalom e se io avessi perfidamente attentato alla sua vita siccome nulla rimane occulto al re tu stesso saresti solto contro di me allora Joab disse io non voglio perdere così il tempo con te e prese in mano tre dardi e li immerse nel cuore di Absalom che era ancora vivo in mezzo al terebinto poi dieci giovani scudieri di Joab circondarono Absalom e con i loro colpi lo finirono allora Joab fece suonare la tromba e il popolo fece ritorno cessando di inseguire Israele perché Joab glielo impedì poi presero Absalom lo gettarono in una gran fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre e tutto Israele fugì ciascuno alla sua tenda or Absalom mentre era in vita si era eretto il monumento che è nella valle del re perché diceva io non ho un figliuolo che conserve il ricordo del mio nome e diede il suo nome a quel monumento che anche oggi si chiama monumento di Absalom ed Ahimaaz figliuolo di Tzadok disse a Joab lasciami correre a portare al re la notizia che l'Eterno gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici Joab gli rispose non sarai tu che porterai oggi la notizia la porterai un altro giorno non porterai oggi la notizia perché il figliuolo del re è morto poi Joab disse all'Etiopo va e riferisci al re quello che tu hai veduto l'Etiopo si inchinò a Joab e corse via Ahimaaz figliuolo di Tzadok disse di nuovo a Joab qualunque cosa avvenga ti prego lasciami correre dietro l'Etiop Joab gli disse ma perché figliuolo mio vuoi tu correre la notizia non ti reggerà nulla di buono e l'altro qualunque cosa avvenga voglio correre e Joab gli disse corri allora Ahimaaz prese la corsa per la via della pianura e oltrepassò l'Etiopo or Davide stava sedendo fra le due porte la sentinella salì sul tetto della porta dal lato del muro alzò gli occhi guardò ed ecco un uomo che correva tutto solo la sentinella gridò avanti al re e il re disse se è uno solo porta notizie e quello si andava avvicinando sempre di più poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano ecco un altro uomo che corre tutto solo e il re anche questo porta notizie la sentinella disse il modo di correre del primo mi pare quello di Ahimaaz figliuolo di Tzadok e il re disse è uomo da bene e viene a portare buone notizie e Ahimaaz gridò al re pace e prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra disse benedetto sia l'eterno l'idio tuo che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro al re mio signore e il re disse è il giovane Absalom sta egli bene e Ahimaaz rispose quando Joab mandava il servo del re e me tuo servo io vidi un gran tumulto ma non so di che si trattasse e re gli disse mettiti là da parte e quelli si mise da parte e aspettò quando ecco arrivare l'etiopo che disse buone notizie per il re mio signore l'eterno ti ha reso oggi giustizia liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te e il re disse all'etiopo il giovane Absalom sta egli bene e l'etiopo rispose possano i nemici del re mio signore tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male subire la sorte di quel giovane allora il re vivamente commosso salì nella camera che era sopra la porta e pianse e nell'andare diceva Absalom figlio figlio mio figlio figlio mio o fossi io pur morto invece tua o Absalom figlio mio figlio mio secondo Samuele capitolo diciannovesimo or or vennero a dire a Joab ecco il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom e la vittoria in quel giorno si cangiò in lutto per tutto il popolo perché il popolo sentì dire in quel giorno il re è molto afflitto a cagione del suo figliuolo e il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia e il re si era coperto la faccia e ad alta voce gridava Absalom figliuolo mio Absalom figliuolo mio oh figliuolo mio allora Joab entrò in casa dal re e disse tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente che in questo giorno ha salvato la vita a te e ai tuoi figlioli e alle tue figliole alle tue moglie e alle tue concubine già che ami quelli che t'odiano e odi quelli che t'amano infatti oggi tu fai vedere che i capitani e i soldati per te sono nulla e ora io vede bene che se Absalom fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti allora saresti contento or dunque levati esci e parla al cuore della tua gente perché io giuro per l'eterno che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte e questa sarà per te sventura maggiore di quelle che ti son capitate addosso dalla tua giovinezza fino al di oggi allora il re si levò si fosse a sedere la porta e ne fu dato l'annuncio a tutto il popolo dicendo ecco il re sta assiso alla porta e tutto il popolo venne in presenza del re or quei di israele se ne erano fuggiti ognuno alla sua tenda e in tutte le tribù di israele tutto il popolo stava discutendo e dicevano il re ci ha liberati dalla mano dei nostri nemici e ci ha salvato dalle mani dei filistei e ora dovuto fuggire dal paese a cagione di Absalom e Absalom che noi avevamo unto perché regnasse su noi è morto in battaglia perché dunque non parlate di far tornare il re e il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Sadoc ed Abiatar parlate agli anziani di Giuda e dite loro perché sareste voi gli ultimi a ricondurre il re a casa sua e discorsi che si tengono in tutto Israele sono giunti fino alla casa del re voi siete miei fratelli siete mie ossa e mia carne perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re e disse ad Amasa non sei tu mie ossa e mia carne e Dio mi tratti con tutto il suo rigore se tu non diventi per sempre capo dell'esercito invece di Gioab così Davide piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore di un sol uomo ed essi mandarono a dire al re ritorna con tutta la tua gente il re dunque tornò e giunse al Giordano e quei di Giuda vennero a Gilgal per andare incontro al re e per fargli passare il Giordano Shimei figliuolo di Gera beniaminita che era da Baurim si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide egli aveva secca mille uomini di Beniamino Siba servo della casa di Saoco e i suoi quindici figliuoli e i suoi venti servi essi passarono il Giordano davanti al re la chiatta che doveva tragittare la famiglia del re e tenersi a sua disposizione passò e Shimei figliuolo di Gera prostratosi dinanzi al re nel momento in cui questi stava per passare il Giordano gli disse non tenga conto il mio Signore della mia iniquità e dimentichi la perversa condotta tenuta dal suo servo il giorno in cui il re mio Signore usciva da Gerusalemme e non servi il re risentimento poiché il tuo servo riconosce che ha peccato e per questo sono stato oggi il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re mio Signore ma Abishai figliolo di Zeruia prese a dire nonostante questo Shimei non deve morire per aver maledetto l'unto dell'Eterno e Davide disse che ho io da fare con voi figlioli di Zeruia che vi mostrate oggi i miei avversari si farebbe egli morire oggi qualcuno in Israele non son io dunque che oggi divento re di Israele e il re disse a Shimei tu non morrai e il re glielo giurò Mephibosheth nipote di Saul scese anche egli incontro al re e non si era pulito i piedi né spuntata la barba né levate le vesti dal giorno in cui il re si era partito fino a quello in cui ritornava in pace e quando fu giunto da Gerusalemme per incontrare il re il re gli disse perché non venisti rimeko e quelli rispose o re mio signore il mio servo mi ingannò perché il tuo servo che è zoppo aveva detto io mi farò sellare là se non monterò e andrò col re ed egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore ma il re mio signore è come un angelo di Dio fa dunque ciò che ti piacerà poiché tutti quelli della casa di mio padre posti il tuo servo fra quelli che mangiano la tua menza e qual'altro diritto posso io avere e perché continuerei io a supplicare il re e il gli disse non occorre che tu aggiunga altre parole l'ho detto tu e ziba dividetevi le terre e me fibo scelto rispose al re si prenda pure egli ogni cosa giacché il re mio signore è tornato in il gala a dita scese da Roghelim e passò il giordano col re per accompagnarlo di là dal giordano barzilai era molto vecchio aveva ottant'anni ed aveva fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Mahanaim poiché era molto facoltoso il re disse a barzilai vieni con me oltre il fiume e io provvederò al tuo sostentamento a casa mia a gerusalemme ma basilai rispose al re troppo pochi sono gli anni che mi resta da vivere perché io salga col re a gerusalemme io ho adesso ottant'anni posso io ancora discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia o ciò che beve posso io udire ancora la voce e perché dunque il tuo servo sarebbe egli da gravio al re mio signore solo per poco tempo andrebbe il tuo servo oltre il giordano col re e perché il re vorrebbe egli remunerarmi con un cotal beneficio dè lascia che il tuo servo se ne ritorni indietro e che io possa morire nella mia città presso la tomba di mio padre di mia passi egli col re mio signore e fa per lui quello che ti piacerà il re rispose venga me co kim ham e io farò per lui quello che a te piacerà e farò per te tutto quello che desidererai da me e quando tutto il popolo ebbe passato il giordano e l'ebbe passato anche il re il re basciò Barzilai e lo benedisse ed assasua così il re passò oltre e andò a Gilgal e kim ham lo accompagnò tutto il popolo di giuda e anche la metà del popolo di israele avevano fatto scorta al re allora tutti gli altri israeliti vennero dal re e gli dissero perché i nostri fratelli gli uomini di giuda ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto passare il davide e tutti gli uomini di giuda risposero agli uomini di israele perché il re appartiene a noi più da presso e perché vi adirate voi per questo abbiamo noi mangiato a spese del re o abbiamo noi ricevuto qualche regalo e gli uomini di israele risposero agli uomini di giuda il re appartiene a noi dieci volte più che a voi e quindi davide più nostro che vostro perché dunque ci avete disprezzati non siamo stati noi primi a proporre di far tornare il nostro re ma il parlare degli uomini di giuda fu più violento di quello degli uomini di israele secondo samuele capitolo ventesimo or qui vi si trovava un uomo scelerato per nome Sheba figliolo di Bicri un beniaminita il quale suonò la tromba e disse noi non abbia nulla da spartire con Davide non abbia nulla in comune col figliolo di Sai o israele ciascuno alla sua tenda e tutti gli uomini di israele ripresero la via delle alture separandosi da Davide per seguire Sheba figliolo di Bicri ma quei di giuda non si staccarono dal loro re e l'accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme quando Davide fu giunto a casa sua a Gerusalemme prese le dieci concubine che aveva lasciate a custodia della casa e le fece rinchiudere gli somministrava loro gli alimenti ma non si accostava ad esse e rimasero così rinchiuse vivendo come vedove fino al giorno della loro morte poi il re disse ad Amasa radunami tutti gli uomini di Giuda entro tre giorni e tu trovati qui Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda ma tardò oltre il tempo fissato lì dal re allora Davide disse ad Abishai Sheba figliuolo di Bicri ci farà adesso più male di Absalom prendi tu la gente del tuo signore e inseguilo onde non trovi delle città fortificate e ci sfugga e Abishai partì seguito dalla gente di Gioab dai Keretei dai Peletei e da tutti gli uomini più valorosi e usciron da Gerusalemme per inseguire Sheba figliuolo di Bicri si trovavano presso alla gran pietra che è in Gabaon quando Amasa venne loro incontro or Gioab indossava la sua veste militare sulla quale cingeva una spada che attaccata al cinturino gli pendeva dai fianchi del suo fodero mentre Gioab si faceva innanzi la spada gli cadde Gioab disse ad Amasa stai tu bene fratel mio e con la destra prese Amasa per la barba per baciarlo Amasa non fece attenzione alla spada che Gioab aveva in mano e Gioab lo colpì nel ventre sì che gli intestini si sparsero per terra non lo colpì una seconda volta e quegli morì poi Gioab ed Abishai suo fratello si misero a inseguire Sheba figliolo di Bicri uno dei giovani di Gioab era rimasto presso Amasa e diceva chi vuol bene a Gioab e chi è per Davide segua Gioab intanto Amasa si rotolava nel sangue in mezzo alla strada e quell'uomo vedendo che tutto il popolo si fermava trascinò Amasa fuori della strada in un campo e gli buttò addosso un mantello perché aveva visto che tutti quelli che arrivavano vicino si fermavano ma quando esso fu tolto dalla strada tutti passavano al seguito di Gioab per dar dietro a Sheba figliolo di Bicri Gioab Gioab passò per mezzo a tutte le tribù di Israele fino ad Abel e a Bet-Ma'acca e tutto il fiore degli uomini si radunò e lo seguì e vennero e assediarono Sheba in Abel Met-Ma'acca e innalzarono contro la città un bastione che dominava le fortificazioni e tutta la gente che era con Gioab batteva in breccia le mura per abbatterle allora una donna di senno gridò dalla città udite udite vi prego dite a Gioab di appressarsi che gli voglio parlare e quando egli si fu avvicinato la donna gli chiese sei tu Gioab e gli rispose sono io allora ella gli disse ascolta le parole della tua serva e gli rispose ascolto ed ella riprese una volta si soleva dire si domandi consiglio ad Abel ed era far finito Abel è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele e tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele perché vuoi tu distruggere l'eredità dell'Eterno e Gioab rispose lungi lungi da me l'idea di distruggere e di guastare il fatto non sta così ma un uomo della contrada montuosa di Efraim per nome Sheba figliolo di Bicri ha levato la mano contro il re contro Davide consegnatemi lui solo ed io mi allontanerò dalla città e la donna disse a Gioab ecco la sua testa ti sarà gettata dalle mura allora la donna si rivolse a tutto il popolo col suo salvo consiglio quelli tagliarono la testa Sheba figliolo di Bicri e la gettarono a Gioab e questi fece suonare la tromba e tutti si dispersero lungi dalla città e ognuno se ne andò alla sua tenda e Gioab tornò a Gerusalemme presso il re Gioab era capo di tutto l'esercito di Israele Benaia figliolo di Geo era a capo dei cheretei e dei peletei e Adoram era proposto ai tributi Gioab figliolo di Ahilud era archivista e Sheia era segretario Tzadok e Abiatar erano sacerdoti e anche Ira di Jair era ministro di stato di Davide secondo Samuele capitolo ventunesimo al tempo di Davide ci fu una fame per tre anni continui Davide cercò la faccia dell'Eterno e l'Eterno gli disse questo avviene a motivo di Saul e della sua casa sanguinaria perché gli fece perire i Gabaoniti allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro i Gabaoniti non erano del numero dei figlioli di Israele ma avanzi degli amorei e i figlioli di Israele si erano legati a loro per giuramento non di meno Saul nel suo zelo per i figlioli di Israele e di Giuda aveva cercato di sterminarli Davide disse ai Gabaoniti che debbo io fare per voi e in che modo espierò il torto fattovi perché voi benediciate l'eredità dell'Eterno i Gabaoniti gli risposero fra noi e Saul e la sua casa non è questione d'argento o d'oro e non appartiene a noi il far morire alcuno in Israele e il re disse quel che voi direte io lo farò per voi e quelli risposero al re poiché quell'uomo ci ha consunti e aveva fatto il piano di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio di Israele ci siano consegnate i sette uomini di tra i suoi figlioli e noi li appiccheremo dinnanzi all'Eterno a Ghibea di Saul l'eletto dell'Eterno il re disse ve li consegnerò il re risparmiò Mephibosheth figliuolo di Jonathan figliuolo di Saul per casione del giuramento che Davide e Jonathan figliuolo di Saul avevano fatto tra loro davanti all'Eterno ma il re prese i due figlioli che rispa figliuola da Ia aveva partorito a Saul Armoni e Mephibosheth e i cinque figliuoli che Merab figliuola di Saul aveva partoriti ad Andriel di Mejola figliuolo di Barzilai e li consigliò ai Gaboaniti che li appiccarono sul monte dinnanzi all'Eterno tutti e sette perirono assieme furono messi a morte nei primi giorni della messe quando si principiava a mietere l'orso rispa figliuola di Aia prese un cilicio se lo stesse sulla roccia e stette là dal principio della messe fino a che l'acqua non cade dal cielo sui cadaveri e impedì agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle fiere dei campi da accostarsi di notte e fu riferito a Davide quello che rispa figliuola di Aia concubina di Saul aveva fatto e Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Jonathan suo figliuolo presso gli abitanti di Iabes di Galahad i quali le avevano portate vie dalla piazza di Beth Shan dove i filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saul sul Gilboa egli portò di là le ossa di Saul e quelle di Jonathan suo figliuolo e anche le ossa di quelli che erano stati impiccati furono raccolte le ossa di Saul e di Jonathan suo figliuolo furono sepolte nel paese di Beniamino a Zela nel sepolcro di Chis padre di Saul e fu fatto tutto quello che il re aveva ordinato dopo questo il Dio fu placato verso il paese i filistei mossero di nuovo guerra a Israele e Davide scese con la sua gente a combattere contro i filistei Davide era stanco e Itzi Benob uno dei discendenti di Rafa che aveva una lancia del peso di trecento sicli di rame e portava un'armatura nuova manifestò il proposito di uccidere Davide ma Abishai il figliuolo di Zerui venne in soccorso del re e colpì il filisteo e l'uccise allora la gente di Davide gli fece questo giuramento tu non uscirai più con noi a combattere e non spegnerai la lampada d'Israele dopo questo ci fu un'altra battaglia con i filistei a Gob e allora Sibekai di Ushlat uccise Saf uno dei discendenti di Rafa ci fu un'altra battaglia con i filistei a Gob ed Elanan figliuolo di Jaharre Oregim di Bethlehem uccise Golia di Gath di cui l'asta della lancia era come un subio da tessitore ci fu un'altra battaglia a Gath dove si trovò un uomo di grande statura che aveva sei dita a ciascun mano e a ciascun piede in tutto ventiquattro dita e che era anch'esso dei discendenti di Rafa egli ingiuriò Israele e Gionatan figliuolo di Scimea fratello di Davide l'uccise questi quattro erano nati a Gath della stirpa di Rafa essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente secondo Samuele capitolo ventiduesimo Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul e gli disse l'Eterno è la mia rocca e la mia fortezza e il mio liberatore di Dio che è la mia rupe in cui mi rifugio il mio scudo il mio potente salvatore il mio alto ricetto il mio asilo il mio salvatore tu mi salvi dalla violenza io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici le onde della morte m'avevano circondato e i torrenti della distruzione m'avevano spaventato i legami del soggiorno dei morti m'avevano attorniato i lacci della morte m'avevano colto nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio e gli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne ai suoi orecchi allora la terra fu scossa e tremò i fondamenti dei cieli furono smossi e scrollati perché egli si era acceso d'ira un fumo saliva dalle sue narri un fuoco consumante li usciva dalla bocca e ne procedevano carboni accesi egli abbassò i cieli e discese avendo sotto i piedi una densa caliggine cavalcava sopra un cherubino e volava ed appariva sulle ali del vento aveva posto intorno a sé come un padiglione le tenebre le raccolte dell'acqua e le dense nubi dei cieli dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni accesi l'eterno tuonò dai cieli l'altissimo die fuori la sua voce avventò saette disperse nemici lanciò folgore e li mise in rotta allora apparve il letto del mare e i fondamenti del mondo furono scoperti allo sgridare dell'eterno al soffio del vento delle sue nari egli distese dall'alto la mano e mi prese e mi trasse fuori dalle grande acque mi riscosse dal mio potente nemico da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità ma l'eterno fu il mio sostegno egli mi trasse fuori a largo mi liberò perché mi gradisce l'eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia mi ha reso secondo la purità delle mie mani poiché ho osservato le vie dell'eterno e non mi sono ampiamente sviato dal mio dio poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non mi sono allontanato dai suoi statuti e sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità ond'è che l'eterno mi ha reso secondo la mia giustizia secondo la mia purità nel suo cospetto tu ti mostri pietoso verso il pio integro verso l'uomo integro ti mostri puro col puro e ti mostri astuto col perverso tu salvi la gente da flitta e il tuo sguardo si ferma sugli alteri per abbassarli si tu sei la mia lampada o eterno o eterno illumina le mie tenebre con te io assalgo tutta una schiera col mio dio salgo sulle mura la via di dio è perfetta la parola dell'eterno è purgata col fuoco egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui poiché chi è dio fuori dell'eterno e chi è rocca fuori del nostro iddio iddio è la mia potente fortezza e rende la mia vita perfetta egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi egli ammaestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di rame tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza e la tua benignità mi ha fatto grande tu hai allargato la via ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato io ho inseguito i miei nemici li ho distrutti e non sono tornato addietro prima d'averli annientati li ho annientati schiacciati e non sono risorti sono caduti sotto i miei piedi tu m'hai cinto di forza per la guerra tu hai fatto piegare sotto di me i miei avversari hai fatto voltare le spalle davanti a me ai miei nemici e a quelli che modiavano ed io li ho distrutti hanno guardato ma non vi fu chi li salvasse hanno gridato all'eterno ma egli non rispose loro io li ho tritati come polvere della terra li ho pestati calpestati come il fango delle strade tu m'hai liberato dalle dissensioni del mio popolo mai conservato capo di nazioni un popolo che non conoscevo m'è stato sottoposto i figliuoli degli stranieri m'hanno reso omaggio al solo dire parlare di me m'hanno prestato ubbidienza i figli degli stranieri sono venuti meno sono usciti tremanti dai loro ripari viva l'eterno sia benedetta la mia rocca e sia esaltato lì dio la rocca della mia salvezza lì dio che fa la mia vendetta e mi sostiene e sottomette i popoli e che mi trae dalle mani dei miei nemici sì tu mi sollevi sopra i miei avversari mi riscuoti dall'uomo violento perciò o eterno ti loderò fra le nazioni e salmeggerò al tuo nome grandi liberazioni egli accorda al suo re ed usa benignità verso il suo unto verso Davide e la sua progenie in perpetuo secondo samuele capitolo ventitresimo queste sono le ultime parole di Davide parola di Davide figliuolo di sai parola dell'uomo che fu elevato all'alta dignità dell'unto dell'iddio di giacobbe del dolce cantore di israele lo spirito dell'eterno ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra l'iddio di israele ha parlato la rocca di israele m'ha detto colui che regna sugli uomini con giustizia colui che regna con timore di dio è come la luce mattutina quando il sole si leva in un mattino senza nuvole ecco il suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta della terra non è egli così nella mia casa dinanzi a dio poiché egli ha fermato con me un patto eterno ed ogni punto ben regolato e sicuro appieno non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo ma gli scelerati tutti quanti sono come spine che si buttano via e non si piglian con la mano chi le tocca s'arma d'un ferro o d'un asta di lancia e si bruciano interamente laddove sono questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di davide gioges bassabet il tecomonita figliuolo dei principali ufficiali egli impugnò la lancia contro ottocento uomini che uccise in un solo scontro dopo di lui veniva eleazar figliuolo di dodo figliuolo di accoi uno dei tre valorosi guerrieri che erano con davide quando sfidarono i filistei raunati per combattere mentre gli israeliti si ritiravano sulle atture egli si levò per cosse filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada e l'eterno concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire eleazar soltanto per spogliare gli uccisi dopo di lui veniva sciamma figliuolo di aghe lo ararita i filistei si erano radunati in massa e in quel luogo vera un campo pieno di lenticchie e come il popolo fuggiva dinanzi ai filistei sciamma si piantò in mezzo al campo e lo difese sconfisse i filistei e l'eterno concesse una grande vittoria tre dei trenta capi scessero al tempo della mietitura vennero da Davide nella spelonca di Adulam mentre una schiera di filistei era accampata nella valle di Refaim Davide era allora nella fortezza e c'era un posto di filistei a Bethlehem Davide ebbe un desiderio e disse oh se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Bethlehem e i tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo attinsero dell'acqua dal pozzo di Bethlehem vicino la porta e presa la seco la presentarono a Davide il quale però non ne volle bere ma la sparse davanti all'eterno dicendo lungi da me o eterno che io faccia tal cosa beverei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita e non da Capsehel figliolo di Jehoia Ida figliolo di Ishai celebre per le sue prodezze egli uccise i due grandi eroi di Moab discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone un giorno di neve e uccise pure un egiziano d'aspetto formidabile che teneva una lancia in mano ma Benahia gli scese contro con un bastone strappò di mano dall'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo questo fece Benahia figliolo di Jehoiada e s'acquistò fama fra i tre prodi fu il più lustre dei trenta non di meno non giunse ad eguagliare i primi tre e Davide lo ammise nel suo consiglio poi verano Asael fratello di Joab uno dei trenta El Canan figliolo di Dodo da Bethlehem Shammah da Herod Elika da Herod Eletz da Pellet Ira figliolo di Ikesh di Tekoa Abiezah da Anatot Bubai da Usha Salmon da Akkoa Maharahai da Netofa Eleb figliolo di Banna da Netofa Itai figliolo di Ribai da Gibea dei figlioli di Beniamino Benahia da Piratot Idai da Natel Gaasha Abbi Albon da Rabat At Mavet da Barhum Elika Abba da Shablon Benah Ashet Jonathan Shammah da Arar Elika figliolo di Sharar da Arar Elifet figliolo di Ashabai figliolo di Matacheo Elika figliolo di Ahitofel d'Aghilo Etzerai da Carmel Parai da Arab Igal figliolo di Nathan de Tsoba Bani da Gad Selec Lamonita Nahrai di Be'eroth scudiero di Gioab figliolo di Zeruia Iraf da Gerher Gareb da Gether Uriah Loiteo in tutto 37 Secondo Samuele Capitolo ventiquattresimo Or l'Eterno s'accesse di nuovo d'ira contro Israele ed incitò Davide contro il popolo dicendo va e fa il censimento di Israele di Giuda e il re disse a Gioab che era il capo dell'esercito e che era con lui va attorno per tutte le tribù di Israele da Dan fino a Beershiba e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero Gioab rispose al re l'Eterno l'Idio tuo moltiplichi il popolo cento volte più di quello che è e faccia sì che gli occhi del re mio signore possano vederlo ma perché il re mio signore prende egli piacere nel far questo ma l'ordine del re prevalse contro Gioab e contro i capi dell'esercito e Gioab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele e passarono il Giordano e si accamparono ad Aroer a destra della città che è in mezzo alla valle di Gad e presso Jazer poi andarono in Galahad e nel paese di Tatim Otshi poi andarono a Dan Jahan e nei dintorni di Sidon e andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Vei e dei Cannei e arrivarono fino al mezzogiorno di Giuda a Barshiba percorsero così tutto il paese e in capo a nove mesi e venti giorni tornarono a Gerusalemme Joab rimise al re la cifra del censimento del popolo c'erano in Israele ottocentomila uomini forti atti a portare le armi e in Giuda cinquecentomila e dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo provò un rimorso al cuore e disse all'Eterno io ho gravemente peccato in questo che ho fatto ma ora o Eterno perdona l'iniquità del tuo servo poiché io ho agito con grande stoltezza e quando Davide si fu alzato la mattina la parola dell'Eterno fu così rivolta al profeta Gad il veggente di Davide va a dire a Davide così dice l'Eterno io ti propongo tre cose sceglietene una e quella ti farò Gad venne dunque a Davide e gli riferì questo e disse vuoi tu sette anni di carestia nel tuo paese ovvero tre mesi di fuga dinanzi ai tuoi nemici che ti inseguono ovvero tre giorni di peste nel tuo paese ora rifletti e vedi cos'è che io debba rispondere a colui che mi ha mandato e Davide disse a Gad io sono in una grande angoscia ebbene che cadino nelle mani dell'Eterno giacché le sue compassioni sono immense ma che io non cada nelle mani degli uomini così l'Eterno mandò la peste in Israele da quella mattina fino al tempo fissato e da Dan a Ber Shiba morirono settantamila persone del popolo e come l'Angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla l'Eterno si pentì della calamità che gli aveva inflitta e disse all'Angelo che distruggeva il popolo basta ritieni ora la tua mano ora l'Angelo dell'Eterno si trovava presso l'aia di Arruana il Gebuseo e Davide vedendo l'Angelo che colpiva il popolo disse all'Eterno sono io che ho peccato sono io che ho agito iniquamente ma queste pecore che hanno fatto la tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre e in quel giorno Gad venne da Davide e gli disse sali e risci un altare all'Eterno nell'aia di Arruana il Gebuseo e Davide salì secondo la parola di Gad come l'Eterno aveva comandato Arruana guardò e vide il re i suoi servi che si dirigevano verso di lui e Arruana uscì e si prostrò dinnanzi al re con la faccia a terra poi Arruana disse perché il re mio signore viene dal suo servo e Davide rispose per comprare da te quest'aia ed erigervi un altare all'Eterno affinché la piaga cessi di infliggere sul popolo Arruana disse a Davide il re mio signore prende e offra quello che gli piacerà ecco i buoi per l'olocausto e le macchine da trebbiare e gli arnesi dei buoi serviranno per legna tutte queste cose o re Arruana te le dà poi Arruana disse al re l'Eterno il tuo Dio ti sia propizio ma il re rispose ad Arruana no io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò all'Eterno al mio Dio locausti che non mi costino nulla e Davide compro l'aia e i buoi per cinquanta sicli d'argento edificò qui un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie così l'Eterno fu placato verso il paese e la piaga cessò di infliggere sul popolo